un piacere mio dell'anno scorso giocammo io e cesare contro ettori dello scandal e vincemmo pure mi ricordo madonna poi dopo ecco la rivincita ci distrussero una vincemmo noi vai tranquillo raffa dai vostri giorni giochiamo dai su dai sta vero ok giusto qua si può mandare in brassin è vero vai tutto grande grande bello 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 il trio delle meraviglie rummenig gulit mbappé bello cazzo si sto giocando con lui sto regolare rigore beh va mi sa che dura poco cesariade guarda qua c'è la nuova coppia bologna sciarche can stag cesaria ragazzi e mettete tutti da stag cesariade se è allungata con gira fallo fallo prenderà il portiere na che cosi alta dai sta a fare clip grande che c'è la nuova coppia bologna notte Cesare come non è angolo ok vabbè ci ha preso il vizietto mi sono affacciato pure per vedere se la prendo la prendo no brutto stop lì vabbè bichiamolo bichiamolo no fuori in gioco dai cosa dai ah brutta palla scusa poh ci hanno ammazzato tutti quattro falli ci hanno fatto quale ci ha fischiato rigore la vai la qua c'era sono buona segna bella l'ho dato a ronaldo di prima lì ma mi ha preso quello fuori sì 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 no no vai tutto tuo bello poi non dire che non sono bravo quitteranno stavo guardando la chat hai fatto quasi tutto da solo praticamente si accontentano del 4 a 0 dai come è passata sta valla cartella oggi stanno a chiudere non 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 il territorio è manuale questa è l'ultima raga poi stacchiamo si è fatta già mezzanotte ho detto stasera faccio un'oretta poi dopo ci ho preso gusto faccio detto tutto fare il gioco sarà buona? non lo so andiamo a fare il gioco andiamo a fare il 7 buona buona urma grande buona